Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e quella che state vedendo è la mia nuova build di Moz, Terminator Moz. Una build basata su orso di ferro che shotta tutto. Detto ciò, quindi, se siete interessati direttamente a vedere l'inazione, vi lascio il timestamp qua sotto in descrizione con, direttamente quando andiamo a provarla, se invece volete la spiegazione e tutti gli elementi che la compongono, direi di iniziare subito. Detto ciò, partiamo. Allora, innanzitutto, perché ci ho messo così tanto a portare questa build? Molti di voi me l'hanno consigliata, molti di voi mi hanno detto, perché non porti una build con orso di ferro, perché giochi sempre Moz senza, eccetera. E adesso sono qui, finalmente, con questa build e vi spiego anche il perché. Perché a me questo genere di build non piacciono. Come avete visto dall'anteprima, questa build è fortissima. Shotta qualunque cosa, boss, nemici, tutto. In pochi secondi. Però non è Borderlands. Borderlands è usare tantissime armi diversi per fare le cose più strane. Qui si sta usando un'abilità d'azione che ha 5-6 armi diverse, fine. Non ha altro da fare. Ed è noiosa per me, per carità. È divertente fare quelle kill, magari, quelle due mappe pulendo via tutto, ma poi io non riuscirei mai a giocare l'intero gioco solo così con questa build. C'è invece a chi piace, quindi ho deciso di portarla almeno una volta per fare contenti tutti. Quindi, principalmente questa build, come avete visto durante prima, si basa su un orso di ferro che è sciotta. Nel caso non siate dentro un orso di ferro, ci sono un paio di armi. Vediamole. Innanzitutto, le armi saranno soltanto due. Una sarà l'M4P5, che vi fa correre più forti e, grazie alla snowdrift che abbiamo qua sotto, potremo sciolare ancora più veloci. Questo sarà per spostarsi sulla mappa, magari quando non ci sono veicoli, tra una zona e l'altra, prima di riattivare orso di ferro. Consacrazione, classicissima. Le uccisioni, quando siete usciti dal orso di ferro, vi danno un 30% di tempo di ricarica indietro se siete entrati in orso di ferro con quest'arma. L'altra, invece, è l'SMG migliore per Mosa al momento. Flipper. Potrei aver usato la Plasma Coil, però sinceramente ho detto è veramente noioso farmare le armi della modalità Armstorace, quindi questa volta facciamo una build dove le armi non sono noiose da farmare. Quindi una flipper classicissima, con Urad come consacrazione, visto che la snowdrift è una Dreadless e andiamo ad aumentare tutti i danni. Questa flipper vi servirà se vi viene distrutto orso di ferro e dovete risbloccarlo, quindi la utilizzate e riuscite a recuperare il cooldown tramite abilità, eccetera, oppure se semplicemente volete farvi un attimo una zona con questo. Potrete eliminare quasi tutti i boss, a parte i classici graveyard, eccetera, solo con questo flipper, quindi non preoccupatevi, non avrete problemi. Detto ciò vediamo gli elementi, gli altri sono Plus Ultra per quanto riguarda lo scudo, per chi non lo conosce il Plus Ultra va ad aumentare l'energia massima e la raddoppia. La parte bella è che va a raddoppiare anche quella di orso di ferro. Estremamente stupida come cosa, ma giusto così. Consacrazione per CDR ridotto quando uscite da orso di ferro, il motivo per cui non ho messo la stessa di questo, se non lo sapete, è questa stacca, quindi potrete averne due uguali di questa consacrazione e funzionerà comunque. Il problema è che a me piace di più avere questo 20% fisso, in modo che anche se non ho l'arma in mano, ho comunque una delle due attive che mi va a ridurre il cooldown. Giusto perché non voglio sempre entrare con la stessa arma, star sempre a cosa a guardare prima di entrare in orso di ferro, eccetera. Granata, una pista classicissima nel caso finita, non so, avete un nemico di fronte o roba del genere e non riuscite a buttarlo giù e avete orso di ferro in cooldown, pin aid, vi fate un po' di danno in più. Consacrazione è la probabilità di creare granate quando si subiscono danni con orso di ferro solo per avere del danno extra. Mode di classe, una flare che è la più forte per orso di ferro, non c'è nulla da fare, 100% di danno extra. Fine. Poi pian piano cala, però è un 100% iniziale che è la cosa che ci interessa. Ovviamente god roll, quindi danno da esplosione, danno abilità d'azione e tempo di ricarica. Infine abbiamo snowdrift rattles, appunto, per correre più forte e attivare l'urad e altre consacrazioni in questo modo. Danno effetto a zona, danno incennario e danno da radiazioni. Potreste sostituire il danno da radiazioni con altro cdr o altre cose, Io preferisco avere il danno da radiazioni, così quando devo usare flipper, che è radiattivo e all'urad, vado ad aumentare di molto il suo danno e posso sciogliere più o meno tutto senza problemi. Andiamo invece a vedere le abilità. Partiamo dal ramo più importante, il ramo arancione. Le abilità d'azione vanno bene tutte, ve lo dico prima di partire con tutti i punti singoli. Potete usare qualunque abilità d'azione volete, magari eccetto la minigun base, ma anche quella dovrebbe funzionare. E tutto funzionerà, tutto shotterà qualunque cosa. Fine. Quindi, orso di sicurezza. Avremo uno scudo intorno all'orso di ferro che vale il 50% della sua energia massima. Semplicemente avete 50% più HP con un cooldown che torna a non a caso. 4 punti in fatteria corazzata, solo per scendere dal ramo potete metterli in fatteria corazzata, potete metterli in vendetta altruista. Preferisco fatteria corazzata perché col deathless vendetta altruista per prendere danno quando avete solo un HP non è una buona idea. 5 punti in audaccio da vendere per guadagnare cadenza e danno da arma e ridurre la nostra cadenza di fuoco. Classico pulito. 3 punti in sottile linea rossa per aumentare ancora di più lo scudo di Mos, nonostante il deathless, visto che funzionano comunque. 3 punti in ingegniosità Vladov per scendere dal ramo, non per altro, però intanto scudo massimo di Mos aumenta. 1 punti in munizioni sperimentali per fare danno incendiario bonus quando Mos o orso di ferro acrittano. 3 punti in estremi rimedi per aumentare il danno da arma di Mos e il danno da arma di orso di ferro. Allora, in questo caso il danno da arma di Mos sarà sempre fisso a 50% extra perché avremo sempre un HP. Per quanto riguarda orso di ferro questa cosa non funziona. Orso di ferro deve scendere a bassa energia per poter sfruttare questo danno bonus. Non conta la vita di Mos. Infine, 5 punti in scheda a falange per avere scudo massimo e danno arma aumentati. E questa cosa funziona anche con orso di ferro ed è estremamente stupida. E il resto non ci serve. Il resto sono potenziabetti allo scudo di cui non ce ne facciamo assolutamente niente. Per quanto riguarda il ramo verde, in questo caso abbiamo 5 punti in nuvola di piombo per ridurre sempre di più il consumo di munizioni e soprattutto avere quel colpo gratuito che fa danno incendiario, fa danno extra oltre a far danno incendiario e alcune abilità di orso di ferro quando succede questo colpo sparano due colpi per qualche ragione. Quindi molto bene. Ci sta un punto in orso d'h solo per scendere dal ramo e vedremo dopo cosa intendo perché non potrete usarlo. Volendo lo potete mettere in set coordinato ma sinceramente l'ho messo lì, tanto da dire se poi volete cambiare build potete usare anche questo. 3 punti in attizzamento per aumentare il danno incendiario, visto che ne faremo molto. Per scendere per il ramo ancora una volta un punto a caso, in questo caso ridistribuzione. Semplicemente rigenerazione di munizioni per modus perché la rigenerazione di energia non funziona visto che avevano solo un HP. 5 punti in rapidità ustionante per avere danni extra per orso di ferro, un 25% e un punto in orso specialista per avere il 60% di danno bonus a orso di ferro se usa due armi uguali, cioè quello che dovreste fare sempre. Andiamo poi a vedere il ramo blu. Il ramo blu è quello che potrete cambiare un po' in base al vostro playstyle. Quelli che dovrete mettere sicuramente sono 5 punti in dai fuoco al mondo, questo danno bonus è stupido e soprattutto qua non c'è scritto ma questo 15% scala con la Mayhem, se siete male in 10 sarà 200-300 se non di più per cento, non è un 15. 15, molto bene. Risparmio per consumare meno carburante con orso di ferro che è la cosa più importante viste le armi che useremo. 5 punti in gemellaggio Torg per aumentare il danno d'esplosione e il raggio delle esplosioni. 5 punti in orso d'accioio inossidabile per aumentare corazza, carburante e danni di orso di ferro, praticamente tutti i bonus possibili. 6 punti in vampirismo per curare orso di ferro con il danno d'esplosione che facciamo. Allora, come avrete notato io ho 3 punti qua nel ramo viola che mi danno un 12% di danno di orso di ferro. Questi 3 punti qua non sono obbligatori. Se volete andare a sfruttare orso d'acca, quindi la torrettina sulla schiena, potrete togliere i 3 punti da qua e metterne 2 in non fare l'orso per il cooldown e 1 in orso automatico. In questo modo sbloccherete anche la nuke. A me la nuke non interessa perché è un'arma troppo lenta per i miei gusti, ma il caso volete sbloccarla appunto togliete i 2 punti da ramo viola, ne mettete 2 in non fare l'orso e 1 orso automatico e avrete la nuke per utilizzarla come volete. Per quanto riguarda le combinazioni di armi che vi consiglio, allora, se dovete fare mobbing, normalissimo, Railgun, prendete una Railgun incendiaria e una Railgun elettrica oppure tutte e due elettriche. Se volete invece fare dei boss, io consiglio di farne o due corrosive o una incendiaria e una corrosiva. Per quanto riguarda invece il pugno, io vi consiglio di non utilizzarlo. Armi verdi, salamander, a me non piace molto, quindi io vi consiglio di non utilizzarlo, e le minigun. Potreste usare una minigun con il danno esplosivo e una minigun normale con l'aumento danno in base al calore. Infine, per quanto riguarda quelli blu, lancio granate a me fa schifo come arma, quindi non ve lo consiglio. Vi consiglio di usare il Vanquisher senza nessuna di queste abilità extra, o in razza ricerca se siete pigri e non volete mirare. Ma a me piace senza l'abilità. Detto ciò, direi di andare quindi a provare la build su Atenas per farvi vedere quanto devasta tutto. Poi ci faremo Tront e poi andremo a shottare pure Greyboard, giusto per divertimento. Vi faccio vedere intanto che ci sono gradi guardiano. Ce li ho tutti attivi, a parte un paio di quelli verdi che purtroppo non li ho ancora sbloccati. visto che qualcuno di voi mi ha chiesto il mio livello, grado 317 e caos 11. A dopo. Lo sapevate che il 60% di voi che guarda i miei video non è iscritto al mio canale? Per voi l'iscrizione può sembrare un piccolo gesto, ma per me mi può aiutare a fare molti più video e a farne di molto più interessanti. Per cui iscrivetevi col bottoncino qui sotto. È un piccolo gesto, mi aiuta veramente molto. Ed eccoci arrivati. Andiamo quindi a pushare Orso di Ferro. E iniziamo a far sparire i nemici. 61 milioni. 26 milioni. 88 milioni. 37 milioni e 26 milioni di fianco. Tutti morti. 248 milioni. 119 milioni. 98. 108. State forse capendo perché 234 la ritengo non divertente. Oh sì, shottate tutto. Però non vedo molto quale sia la parte divertente nello shottare tutto e dover uscire e arrampicarsi per poi rientrare per shottare. Andiamo giusto per curiosità a cambiargli le armi. Questa volta magari mettiamo, non so, Vanquisher. Andiamo a metterli da tutti i due lati. Senza potenziamenti o robe bonus. Ecco qua, Orso di Ferro. Vedete che shotta, senza problemi. Il problema del Vanquisher è che è un pochino più lento per i nemici che si spostano. Infatti in questo io consiglio sempre di usare la Railgun. Letteralmente. È la migliore arma che si può usare per Orso di Ferro. Al massimo la Minigun, ma la consiglio più per i boss, la Minigun. Quindi andiamo a eliminare anche questi nemici qua dietro. Mi sono ucciso da solo con le esplosioni. E adesso vi faccio vedere come funziona la Flipper. Shotta. È sbagliata come arma, semplicemente, nulla da fare. Non usate l'MP5 perché non fa danno l'MP5. Dovete usare il Flipper per forza quando siete a terra. Quindi andiamo a proseguire. E direi che ci vediamo direttamente quando arriverò da Tront. Siamo arrivati da Tront. Andiamo giù. Aspettiamo che faccia un muretto. Orso di Ferro. Ciao Tront. E questa era la Railgun. Per questo vi dico di usare la versione corrosiva perché è quella che fa assolutamente più danno. Adesso, giusto per curiosità, andiamo a provare la Minigun. Il Vanquisher non ve lo faccio neanche vedere perché tanto, avete visto, ci mette un pochino di più. Ma fa gli stessi danni della Railgun. Quindi andiamo a mettere la carissima Minigun. Un'esplosiva, una che fa più danno in base a quanto si surrescalda. Aspettiamo che faccia un muretto. Perfetto. E iniziamo a sparare. Tront, sparito. Quindi andiamo a vedere il nostro caro amico Gravewar così vi faccio vedere come shottare anche lui. Eccoci arrivati. Ho appena messo doppia Railgun, ancora una volta corrosiva. Adesso aspettiamo che faccia il suo ciclo di animazioni. Se magari mi permettesse di uscire sarei molto contento. Ora, fa il pugno. Aspettiamolo. E scatouche. Graveward è andato. Se usate la versione di fuoco farete un pochino meno danni della corrosiva. Se usate una di fuoco e una corrosiva potreste shottarlo un pelo più velocemente quando vi torna il cooldown. Ma, come avete visto, basta usare la corrosiva e shottar comunque. Quindi, direi che questa build non ha bisogno di altre dimostrazioni. Per questo video è tutto. Vi lascerò, come al solito, in descrizione il link al mio Discord dove potrete andare nel canale apposito a scaricare il file di questa build. Per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora. Per supportare questo video e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Roid è tutto. Ciao a tutti. Grazie.